dai 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 75 però c'è un altro davide c'è un altro c'è un altro c'è un altro vediamo in realtà non sappiamo quanto siamo eccoci 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 quindi eravamo probabilmente a 50 ho tirato la sessantesima ok il bastone di oma qua me la sento bene a differenza del banner di utao nasino che dice nasino tra due ok la prossima sono un po raffreddato però l'avevo sentito l'avevi sentito ma sei affrettato dai dai 5 stelle dai oh ma 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 no basta dove minchia è Mi sta illudendo Perché no Non ho fatto nessun conto Ho tirato a caso Non l'avrei mai detto Pronti? Andiamo Pazza Oddio Ok 75 76 Il soft pt ce lo siamo giocato 77 Io avevo visto la forma Perché sono messa nella stessa cazzo di posizione di merda Però non è D-Duck Ci siamo Non sto più contando Oh mio Dio Ah ma ho piti 30 tipo Qualcosa del genere Si vanno e bannerarmi Prendila Prendila Dov'è Dov'è Clicca Dov'è Dov'è Non sta Via Via Foglio di coglioni Via Dov'è Non sta È l'ultima È l'ultima Ma l'ultima è zero Eccolo Oh amo La multi Dopo ti ho detto Ti resti su isco Ufficialmente Il patto indietro Te la dava Io ci voglio Rene Oddio ma che fa È Le singole Ah ok Non ce l'avevano Un stiamo Quali stai glitter Siamo Né un botto Né tipo 90 Sì lo so Ma adesso vediamo Cosa esce Decidiamo Sì sì va bene Va bene Eccolo Amo Amo Porca puttana Lo sapevo Lo sapevo Io lo sapevo Come Davide Come Davide Come Davide E vai Andiamo Ok 5 stelle Perfetto Zappi Perfettissimo Ok vediamo 75 76 77 78 79 Eccola Bellissima 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 E abbiamo altre 5 singole Può succedere di tutto Bellissima 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 Ok A me andrebbe bene Anche un mingoni Cioè Oh 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 Cos'è Chi è Aiuto Chi è Aiuto Ok adesso Fermiamoci un attimo Adesso siamo In questo momento A 56 O 66 66 66 66 Ok Abbiamo il 50 Abbiamo detto Nel caso in cui Io voglio sperare che sia Ma nel caso in cui Non fosse C'è qualcuno Che ti piace particolarmente Se dovessi scegliere Io sono La prima voce Fuori dal coro Cioè Perché a me Cici Io non ce l'ho Ok Ma vabbè Ma ci sta Ci sta Io per esempio Nessun Quasi nessuno Utilizza più gin Io però Per aver lasci 2 Pagherei Quindi ti capisco E io l'ho c0 Quindi Vai Vediamo Ok Rain slasher Questa è 67 No 68 Era 69 Esatto Sì 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 Ok 70 71 Dai Usavo Sì usavo Gliela Vabbè Avevo sempre chiamato Il 50 e 50 Vinto Dai Vediamo Vediamo Mami Sorry L'ultima Ecco Ecco È un Un idro Cioè Idro sbagliato Però L'idro sbagliato Igi spero fosse In partita Sull'ol No ok Stava guardando Non è molto contento È un ragazzo Ma non l'avevo Non ce l'avevi? No Buona Guarda Il mono è veramente buona C'è la 5 stelle Vediamo Oh Sì C'è Ok Bene Io è emozionata Che cazzo Subito Oh E te Fabio intanto Basta chiamarla Basta chiamarla Con il solito Con il solito Guarda Come affetta Fettiti tutti un attimo Fabio cosa ne pensi Del tuo 5 stelle Con il tuo 50 e 50 Vinto Direi che mi sembra Cosa buona e giusta Perché Il piti non esiste E neanche il 50 e 50 Ma che dici E le trova a 75 Ma ho 76 Che era Ma che cavolo Dice Fabio Quindi Eh sì Eccoci Eccoci Oh 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 Eh su Intanto Probabilmente molta gente Ti offenderà per questa scelta C'è questa Questo fool Sì Anche perché forse Ce l'ho C6 Non lo so Uno Andiamo avanti Vabbè Fabio Vasta chiedere Vabbè Fabio No Dillo Diggliela a loro Ragazzi Dillo Si fa così Ragazzi Bisogna iniziare Veramente Nel posto Dove C'è più pace interna Let's go 5 stelle 76 77 78 Vabbè Fabio Vabbè Sa chiedere Cioè Marti Te non mi chiedi Non mi chiedi E non mi credi Cioè Sai che io C'ho il tizio Della Oio verso in cantina Non lo dire D'alta voce Eh sì Ma è il mio segreto 5 stelle Molto bene Iniziamo con un bello Spadone di Fabonius Che è la 75 76 77 Yes Eccola Bravissimi Tutti 50 e 50 Vinto Bravi Abbiamo tutti unito Le nostre energie E l'abbiamo presa Prossima multi Non sappiamo bene il pity Quindi io Tiro Ok Ok Un altro rust Aiuto Siamo in early pity In questo momento Aiuto Non sappiamo cosa sta per succedere Abbiamo trovato Abbiamo trovato un altro rust Vediamo Dio Che ansia Abbiamo trovato il simulacra Dai Sessantacinque Sessantasei Eccola Avanzano anche 5 pool Eccola ragazzi Ci siamo Ci siamo 59 Eccola qua 60 61 62 63 Let's go Pity 25 Andiamo a Pity 35 65 No No Vabbè Vamos Andiamo Vai pure Multi Ci siamo Ragazzi Abbonamento 65 Sono le pool di ali Sono le pool di ali Queste Ma ce l'abbiamo Sì 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 L'abbiamo presa Sì Eccola Ciao Little banana Grazie per il follow Sì L'abbiamo presa Senza dover Farlo off live Meno male Una Multi Prima 51 52 53 54 55 O a fine 56 Sì Mamma mia Ragazzi Che stress Devo andare in terapia L'abbiamo presa L'abbiamo presa Grazie a tutti.